In occasione del trentennale degli scambi giovanili internazionali promossi dal Comune di Bologna è stato presentato il libro Una finestra sul mondo, 30 anni in viaggio col Comune di Bologna. Quando ho fatto l'assessore, come ha ricordato Doriana, a me è venuto in mente quello che mio padre ci ha fatto fare a tutti noi 12 fratelli a Bologna e non solo a noi, perché ci portava in giro regolarmente in tutto il mondo. E per me, io ricordo, non solo lo ricordo io, ma lo ricordo anche tutti i miei fratelli, che abbiamo imparato molto di più e molto meglio, girando tutto il mondo, di quanto non abbiamo imparato andando a scuola. Naturalmente la scuola serviva ad approfondire una serie di cose, però abbiamo avuto questa grande opportunità. Mio padre portava in giro tutti i suoi alunni, tutti i suoi alunni del liceo Galvani, sempre. E dopo aver portato in giro gli alunni, ha cominciato a portare in giro i genitori. E questa è una cosa molto importante, perché se Doriana ha ricordato, giustamente, che hanno fatto girare 50.000 studenti, giovani sostanzialmente, quello che noi ci siamo chiesti più volte, e che credo che ciascuno di voi si stia chiedendo, è che cosa è successo nelle famiglie nelle quali i ragazzi sono rientrati? Qual è stata l'esperienza che i ragazzi hanno portato in famiglia? Quindi non ci sono soltanto 50.000 bolognesi che hanno imparato sostanzialmente che cosa, giovani dico bolognesi, ci sono altri 100.000 tra babbi e mamme che hanno imparato a crescere. E secondo me questo è stato uno degli elementi fondamentali che mi ha fatto immaginare, immaginare nel 1982, quando facevo l'assessore indipendente nel comune di Bologna, aprire questa strada. Io facevo l'assessore all'istruzione superiore, e da me dipendevano soprattutto tutti gli istituti comunali, gli istituti professionali comunali. Quindi vuol dire Aldini Valeriani, Elisabetta Sirani, eccetera, eccetera. In realtà, diversamente da quello che Marco provocatoriamente mi ha fatto dire inizialmente, no, non abbiamo organizzato dei viaggi all'estero puramente e semplicemente per turismo. In realtà la cosa importante, che poi oggi stiamo facendo di nuovo attraverso la Malauri, è portare i ragazzi all'estero a fare delle esperienze di lavoro, di lavoro, non solo di apprendimento della lingua. Nel testo che voi troverete, che qualcuno di voi leggerà naturalmente, non ho dimenticato di ricordare che i primi gruppi di ragazzi che viaggiarono sostanzialmente lo hanno fatto, vi dico sostanzialmente, in fretta, in furia, Elisabetta Sirani andarono a Malta per 30 giorni per studiare l'inglese. A novembre del medesimo anno, 22 studenti di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazione dell'Aldini Valeriani vengono ospitati dalla prestigiosa Werner Siemens Schule di Stoccarda, non solo per seguire le lezioni, ma anche per sperimentare il montaggio di sofisticate apparecchiature elettriche e per visitare i reparti di aziende come la Bosch e la Standard Electric. Non ho bisogno di dire quanto oggi il rapporto con la Germania sia per noi importante. Nell'aprile dell'84 gli studenti tedeschi e i loro docenti restituirono la visita venendo a Bologna per frequentare lezioni teoriche, ma anche per utilizzare laboratori pratici e visitare la SASIB e la stazione di radioastronomica sperimentale dell'Istituto di Radioastronomia del CNR. Insomma, voglio dire che fin dall'inizio l'idea era quella, certo, girare serve sempre, come ce l'hanno ricordati diversi personaggi storici che cito, naturalmente. Ma insomma, la cosa più importante in questo momento era di avviare una rete di relazioni che potesse fare crescere di più e meglio anche quello che avevo, dico, progettato allora, che si chiamava sistema formativo integrato. E cioè un rapporto tra le scuole, l'università, le aziende, che dopo 30 anni di vuoto, sostanzialmente, oggi sta riprendendo in qualche modo funziona. Allora, insomma, devo dire che questa per me è stata un'esperienza molto importante, ma prima è stato, dico, ricordato Michelangelo, adesso con una battuta dirò che io sono stato, dico, Cimabue, ma Doriana è stata Giotto, davvero, perché questa cosa l'ha fatta crescere dieci volte, cento volte di più. E poi concludo semplicemente, dico, ricordando una cosa molto semplice, con la quale inizio l'articolo che ho scritto, io ricordo sempre Plutarco, che è una delle cose che cito il più frequentemente possibile. Cioè ricordiamoci che i ragazzi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Se noi non investiamo in un paese che sta perdendo la popolazione, dico, giovanile, negli ultimi 25 anni noi abbiamo perso, il paese ha perso il 37% dei giovani 19.